La pace sia con voi, compagni. Oggi vi porto 40 immagini storiche che dovete vedere prima di morire, parte 3. Cominciamo. Bambini che giocano con i soldi durante la crisi economica in Germania. 1920. Un matrimonio in Serbia durante la guerra civile yugoslava. 1995. Ceciani sostengono la lotta di Shamil Basayev. 1997. Boris Yeltsin facendo il saluto fascista. 1992. Abdelkrim El-Kattabi, capo del Rif. 1916. Propaganda anti-sionista in Costa Rica. 2006. Un giro in barca durante la grande alluvione di Mosca. 1908. La foto segnaletica di Andriy Cicatilo. 1990. Prigionieri spagnoli, che trasportano un cannone per la battaglia di Warga, guerra del Rif. 1925. Un soldato tedesco e un'infermiera sovietica, facendo il bacio dell'amicizia dopo che entrambi le parti hanno collaborato per invadere la Polonia. 1939. Augusto Pinochet e Fidel Castro. 1974. I vigili del fuoco aiutano le persone durante la grande alluvione a Parigi. 1910. Un legionario rifiano durante la guerra. 1921. La città norvegese di Alesund prima, che fosse distrutta da un incendio. 1900. Jean Jaurès, l'uomo che è stato assassinato per aver tentato di impedire la prima guerra mondiale. 1912. Propaganda antisionista negli Stati Uniti. 2018. Abdelkrim el-Kattabi con suo fratello Mamed. 1919. Un uomo che spazza denaro per strada durante la crisi economica in Germania. 1920. Gavrilo Princip dopo essere stato catturato dalla polizia. 1914. Aleksandra Zagurska, capa dell'OLG. 1920. Riffiani che sorvegliano una parte delle montagne dell'Atlas. 1923. Jean Jaurès lancia un appello per aumentare la consapevolezza delle persone a non partecipare alla guerra. 1914. Donne polacche in fila prima della battaglia d'Ilviv. 1918. Yosif Zugashvili al funerale di Kato Svanize, la sua prima moglie. 1907. 1907. Ayd Sarkash e suo figlio Selin durante la battaglia di Warga. 1925. Alexandra Zagurska e altre donne che usano una mitragliatrice. 1920. Un giornale francese annunciando la morte di Jean Jaurès. 1914. I cattavi pochi istanti prima di essere portati in prigione. 1926. Propaganda contro la guerra in Ucraina. 1919. Anonymous vendendo giornali a Parigi. 1929. Cadaveri di soldati spagnoli sul Monte Arruito dopo il disastro dannuale. 1922. Polacchi in Ucraina durante l'occupazione di Ternopil. 1919. 1929. Soldati vietnamiti durante la prima guerra di Docina. 1956. 1936. Il negozio di Eibri Kaufmann, il luogo in cui Adolf Hitler incontrò Eva Braun. 1937. 1937. membri dell'olchi in una trincea durante la battaglia di Lviv. 1919. Un imam rifiano che guarda la luna per sapere quando sarebbe iniziato il Ramadan. 1923. Idie Minada con sua moglie a Berlino. 1972. 1932. Una coppia dell'acta di Zucchi. 1919. Un commerciante rifiano che vende merci rubate agli spagnoli. 1925. Un quartiere di una città libanese reclamato dalla natura dopo la guerra civile. 1992. La cosa cattiva del video è che deve finire, se ti è piaciuto fammelo sapere. Ciao.